Bentornati sul canale, oggi inizio l'avventura in Red Dead Redemption 2 Premessa, non ho giocato il primo, quindi non ho idea di che tipo di gioco possa essere visto che tutti quanti ne parlano benissimo di un grandissimo titolo per cui ho detto proviamo, acquistiamo e si prova Allora, impostazione, vediamo un attimino cosa c'è da impostare Comandi, tastiere e mouse, va bene, schermo, allora Effetti uccisione, sì, estensione interfaccia, icone Consente di sezione delle informazioni su luoghi in cui ti trovi, dinamico, va bene Questo qua, mirino, semplice, questa opzione Dissertando questa opzione alcune parti del gioco potrebbe risultare più difficile da giocare No, no, lasciamo il mirino Audio Volume generale, volume musica, bilanciamento dialoghi Uscita stereo Cuffie Sì, ho le cuffie al momento, quindi cuffie Di positivo uscita Cuffie, ok Modalità chat vocale Premi per parlare il tasto N Ok Audio grafica Andiamo sulla parte succosa Memoria video 6G occupate su 24 RDD ne occupa 5 euro Altra applicazione, 1 giga Facciamo la GPU di sedate come adattatore di uscita Va bene Non c'è da fare niente Monito l'uscita In 4K Va bene 138 In finestra Senza bordi In finestra No, schermo intero Ok Sincronizzazione verticale Lo lasciamo Invidia reflex Disabilitata Abilitata Riduce la latenza dovuta ai limiti della GPU Vabbè Vabbè Allora lasciamo disattivata Triple buffering Sì Gioca in pausa quando la finestra non è attiva Block grafica Livello qualità predefinito Ok Tutto quanto Massimo Qualità texture Ultra, 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 ultra Qualità rifersi Ultra Qualità dell'acqua Ah Che ho fatto? Queste impostazioni Sì Però ancora non l'avevo modificato Ancora finito Eravamo all'acqua Dov'è? Meta text Specchio Acqua Ok Quindi alta E il massimo Ultra Particelle Ultra Ultra Invidia DLSS Seleziamo la qualità DLSS Prestazione Prestazione Ultra Nitidezza Si può mettere al massimo Vediamo un po' come cambia HDR Sì Calibrazione HDR No Così Troppo Troppo Troppa luce Direi che questo va bene Qui posso Lasciamo Così andiamo sul bianco Ecco Sul cento Impostazioni avanzate Bloccate Sbloccate Regolo a frequenza di aggiornamento La distanza visiva Delle De calcomanie Come i fori di proiettile Quindi applica Modifiche Invio Vuoi mantenere queste impostazioni? Manteniamo queste impostazioni Quindi Oltre 6 giga Di memorie occupate Ne abbiamo occupati 5 e 8 Alla fine Forse perché abbiamo messo Questo qui Esatto Ok Torni indietro Generale Salvataggio automatico? Sì Temperature in gradi Celsius Spesi in chili Orologio 24 ore Va bene Attiva gli inviti La storia Lasciamo Tanto mi interessa E Ok Allora Storia Invio Iniziamo A presto L'Area dei Frilegi e dei Pistolari stava giungendo al termine. L'America stava diventando una terra governata dalla legge. Anche il selvaggio West era quasi stato domato. Le ultime bande erano braccate e venivano eliminate una dopo l'altra. E' un tot. Un'ispo. 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 Grazie. Abigale dice che sta muendo, Ducca. Ci dovremmo percibare a qualche parte. Ok, Arthur sta cercando. Lo sento in fronte. Se non fermiamo in breve, tutti ci stiamo muendo. Se il gioco, è in May. Mi spero che la legge si è perdita come noi. There! Arthur! Cosa scopo? Mi sono trovato un posto dove possiamo trovare un'esplosione. Let Davy rest, quando... ... lo sai. Un vecchio mino in town. Abandoni, non è molto più. Voi! Voi! Capitolo 1. Colter. C'è nessuna casa? ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davey, Jenny, Sean, Mac, they might be okay. We don't know. There's nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be, we're gonna be long gone. Come on. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Mr. Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We miss you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, miss yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Bye. Okay. We need you strong. We need you strong. Perseguire Dutch. Progress, history, I'm... Come on, let's go. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. In two days or more like this now, but has to blow over soon. Le ultime parole famose. Tieni premuto maiuscu per aumentare il passo. Okay. Quale ponte? Ah, questo. Control, rallento. Maiuscu. Andiamo a galoppo, diciamo. Yeah. Yeah. Can't believe we lost David too. He's the last one, Arthur. No, more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkerton's tail in us. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. Sei l'unica a cui potremmo Stai forte ora Aspetta, c'è qualcuno che viene verso noi? Dove? Vatta Federlo, scusami Chi è tu? Micah Chiavence? Hai trovato qualcosa? Penso che così Ho trovato una piccola casa da quella Ok, c'è qualcuno qui? Certo L'arrivo con luce e sonore Sonia come una festa Let's go see Follow me How's Davey doing? No, non c'è nessuno E non c'è nessuno Non c'è nessuno C'è troppo Davey era un vero lontano Bello di quei ragazzi sono O... O... Si E Mac, Sean No. We all know E' n approche C'è nessuno C'è nessuno Prendere C'è nessuno Ehi, ma io non l'ho visto, porca miseria. Parlo. Chiedi se c'è... ce n'è certo. Chiedi se hai visto qualcun altro. F. Chiedi se c'è... 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 Ricordo che la salute si trovi in basso o a sinistra. Ok. La parra esterna indica la salute rimanente? Dal livello del... La parra esterna indica la salute rimanente, ok. Dal livello dell'interno dipende dalla città con cui si rigenera la... Ok, va bene. Avvicinati ai pali. Tieni eh, per legare il... Io sto già andando a sinistra. Capanno e premi Q per ripararti. Ok. Non è cosa però. Nei progressi, giocatore, storia online, solito, impostazioni. Ok, sono sempre le impostazioni quelle del gioco iniziale. Va bene. Usa W per sbicciare quando sei al riparo. Usa per spostare la visuale. Osservare amica. Usa il mouse per spostare l'arma e rilascia tab per il video. Ok. Ma devo già sparare? Ahah. Sino di uno che si chiama! Ci sono tutti i bambini! Si sono tutti i bambini! Sonsa di bambini! Si sono un runner! Allora, che dov'è? La pistola ce la lasciamo equipaggiata, va? Allora, i cavalli, come li avvicino? Allora, questo cavallo appartiene mag e in questo momento non può montarsi sopra. Ho accelato troppo. Mi avevi detto di portare i cavalli fuori, dentro. Vabbè. Tieni premuto. R. Vendiamo. Vendiamo. Tieni premuto B per aprire la pisaccia. Mangia e ripristi in parte. Ah, ok. Va bene. Quindi questo qua. Ce la mangiare. Il posto è spettato, spettato. Potremmo potremmo spettare le donne e i Jacki qui. Potremmo. Vediamo come si sono quando ci siamo tornati. Non voglio che ci spettare. Vediamo Per riuscire ancora e poi devo raggiungere Dutch che è fuori A questo punto, credo Prendi questo? Strucce Che fanno sempre comodo Non c'è nient'altro Per scendere Ok Questo baule Allora, prendiamo portamonete 1,58$ Ammazzo Gioielli Buono Gioghiamo nel cassetto Sigarette I, esamino Dottoressa Avvicino al visuale, grazie Bisaccia, gira, metti via Gira Altissima Altissima Poeti Vabbè, non mi interessa Devi andare calmo Lecce che fa Ah, ok Esci B Chiudi No, no, finissima sta cosa Che abbiamo Esamino Esamino Una fotografia Dottoressa Che c'è nient'altro Dietro Non mi interessa Che cosa da mangiare O da bere Galletta Galletta d'avena Sul tavolo Questo qua Sul tavolo Non c'è nulla Sì Ok Ok C'è, mi hai detto Nella stalla Utizio sia questa La stalla Però Premi Alt Per vedere L'obiettivo attuale Alt E' questo Che vuol dire Perché dovrei vedere Ah, radar cambio E' stesso Quello grande Ok L'arma Eh, ti avevo detto Di stare con La pistola Ahia 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 Stinky little bastard Should I kill him? No Not yet Find out what they're doing here And where comb is Oh this son of a bitch would talk No Ahia Where's Clomo Triscoll? Ah 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 And the others At an old mining camp Some west of here Near the water Donuts What are you bastards doing? Why are you up here? Ehm... Lo ce l'ho Vedi che c'ho la roba addosso Eh, prendi la pistola Ah Ed il cappè Ok Premi è per condurre il cavallo Ah, tieni premuto Tasto destro per agganciare E poi conduci Ah, ok Premi solo una volta Benissimo Is that bastard still in there? He's deal with Good That looks like a decent horse You should keep him You need to hitch him He's already skittish Get away from me! Michael! What the hell do you think you're gonna do? Oh, I'm out of your salad Wild thing, ain't ya? Leave her alone I wasn't doing nothing She's one of them O'Driscoll's No, she ain't, Michael Look at her Miss, miss Are you... Fuck you fool Michael Look at her Miss Now It is gonna be okay We mean you Don't harm Miss Miss La patrona di casa Come on It'll be okay We need to get out of here And quick Miss Come on Now Are you okay, Miss? I came Three days ago In office They... 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 Look, Miss You are... Safe now And... You can't stay here You can't stay here Did you see me in the tunnel? Come with us Of course Miss It's okay We're bad man We ain't that It's okay Get on We'll keep you safe Until you figure out What you wanna do What's your name, Miss? Miss Adler Adler Sadie Adler Misses I... He... He was my husband Hey! Somebody's coming! He's coming! He's coming! He's coming! Hey everybody! Dutch is back! How did you get on? Uh... Mike found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. Uh... Uh... We found... Some of them there. But there is... More about... Apparently... Scouting the train. Thank you. And that's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found... Some supplies, some blankets, a little bit of food. And this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something. And Mrs. Adler, it's gonna be okay. Eh, it's all normal. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in three days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. Well, how come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Of course, my husband has a cool feeling. It's hard for Arthur. He hasn't been seen in days. The weather hasn't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. abigail parther come ti fai bene abigail e tu i need you i'm sorry i'm sorry to ask it's little john he's got himself caught into a scrape again he ain't been seen in two two days your john will be fine i mean he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron but that ain't changing because he got caught in some snowstorm please go take a look javier yes javier will you ride out with arthur to take a look for john you're the two best fit men we've got now she's we're all we're pretty worried about him i know if the situation were reversed look for me thank you this way last i know john was headed up the river for all we know he kept riding north and never looked back he wouldn't leave not like that wouldn't be the first time hey i see some smoke come on let's take a look let's hope it ain't more for driscoll's boys well it seems somebody left recently that way you're well come on there andiamo in quella delcia in basso in sinistro ok la resistenza del cavallo si trova nell'angolo in basso in sinistra la resistenza si consuma quando il cavallo salta o corre al galop ok ok meglio questo visual perché devo premere la bulla non lo voglio premere la bulla watch it dam snow's coming in hot again lose these tracks if you don't move fast Sì ma adesso le tracce non so più Dove mi stai portando? It's hot No, non vedo nulla Ah sì, c'è qualcosa a terra Da qua, lo dici? Dove sei? Sì Va bene, c'ho la pistola Va bene anche la pistola Armi sul cavallo, premi il tasto TAB Tieni venuto il TAB per visualizzare le armi trasportate dal tuo cavallo Usa Q, oh, eh, percorsi Ah, ok, ta ta Questo sì Mettiamo questo Che schifo Un po' di contegno Ah, in testa No Siamo buoni, siamo buoni Diedici Sì Il tuo esistente è trovato da lungo in basso a sinistra Allora l'esterno al consumo a quanto accorre Senti, ok 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 Mi sa che devo mangiare qualcosa No, quella è la resistenza Ok C'è la bisaccia Esistenza Infatti Vedete Andiamo Inquiniamo Sì, inquiniamo la montagna Scusate Ma perché sto John è arrivato fino a qui Si vede nulla È qua dentro No no è un secondo dov'è? No, non soffi Non soffi Non soffi Non soffi niente, buon Voi, compadre Non soffi non sippi Non soffi non sippi Non soffi Non soffi Non soffi Oh, come andiamo con te. Vedi? Ho detto che non sei il tuo ragazzo per questo. Certo che tu ti è. Ah, sei bene? Non penso che. Come, spero che questo ci aiuta. Ahia! Guarda lì. E adesso? Ho sberto la pistola per non caportare. Ma non posso prendere nulla come carcassi, è carne, no? Vabbè, andiamoci. Vai, Aver, ti seguo. Scusa. Non l'abbiamo capito. Scusa. 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 Bastardo. Crepa. 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 Ah, e tu? E' un crema pure tutto. Nessuno di noi è successo in questo momento. Sto ride in the water for a bit, provo a perdere un senso. Non vuoi lasciare la scuola e tornare in campo. Sì, noi dovremmo fare una storia migliore per questo scar. Quindi, freddo, 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 non è abbastanza buono per te. Sì, andiamo a la destra. Sì, vieni. Let's push hard and get back. You see those buildings up ahead John? That's where we camped, paused nearly there. John, qualcuno per ai freelyresse john dao di libero. And they got some help here. Siamo un'azienda? Ci sono un'azienda! Siamo, aiuta! Tu è almeno! Tu è almeno! Allora, qui ci siamo. Ci siamo. Ah, guardatevi! It's your thighs, è il piede! Siamo, andiamo a te freddi. Grazie, grazie a tutti! Questo è un nuovo gioco, anche per i vostri spettatori. Grazie, Arthur. Grazie. Hai alcuni altri perdoni che bisogna salvare? Non oggi. se tu e le ducche parliamo di come ci siamo venuti da questo ho parlato con il Herr Strauss quando il gioco si è riuscito credo che dovremo andare all'estero all'estero? 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 è dove i nostri problemi sono più peggio? vieni, Herr Strauss, vieni a riuscire grazie, signor Moggett premio, hai completato, entro ok, missione completata, entro tieni premuto F1 per i dettagli riassunto missione, uccide tutti i lupi senza subire danni eh, peccato, vabbè raggiungi P per parlare con B raggiungi P per parlare con Mr. Pearson apri il cassetto no, no, non più, apri devo prendere con Herr ok, chiudi non mi voglio... ah, qua forse parlo con qualcuno, no? ma, se io volessi salvare e chiudere, come faccio? impostazioni? no, abbiamo detto facciamo così, esci dal gioco per esempio e... c'è il letto qua abbiamo un po' se il letto, magari un attimo in pausa un attimo in pausa e... 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 storia salva la partita perfetto ok facciamo così salviamo la partita salvare sì 2.7 per cento ti dice pure la percentuale perfetto ok chiudiamo qua il primo video così nel prossimo video riprendiamo da questo esatto punto andiamo a parlare con b e con p al prossimo video